Ciao ragazzi, sono in treno, sto andando a Milano a registrare verissimo, non ho dormito neanche un minuto, sono uno straccio. La mia vittoria però, siete voi, davvero, mi avete così gratificata, sorpresa e smalordita per il grande lavoro che avete fatto, per supportarmi e supportarmi, ricambierò al più presto, ci vediamo, ciao.